buonasera allora spero che la luce che ovviamente come avete capito non è naturale possa rendere giustizia a questa bella copertina però non è questo quello che ci interessa questa sera sono qui per parlarvi di questo romanzo di Morgan Liewelin ovvero bello questo libro voi sapete che io ho una mia personalissima suddivisione di libri cioè quelli che mi piacciono e quelli che chiamarli preferiti è molto riduttivo questo libro infatti l'avete visto nel video dei preferiti dei preferiti 1 ed era proprio sotto quel video che Chiara, ovvero Mare e Totonashi molto tempo fa mi aveva chiesto se potevo fargli la recensione di questo romanzo perché era abbastanza curiosa di sapere di cosa parlava ovviamente e di quello che ne pensavo allora possiamo cominciare la nostra chiacchierata serale innanzitutto innanzitutto l'edizione è Nord e cosa dirvi è difficile parlare dei libri che ti hanno lasciato dentro delle tracce indelebili questo sicuramente è uno di quelli però dai voglio cercare di fare una bella chiacchierata allora innanzitutto vi dico che è una storia vera perché so che è una storia vera a parte che ho letto le introduzioni e le post-fassioni e quindi c'è scritto lì ma poi non molto tempo fa avevo letto il libro Storie della Pirateria e c'era un capitolo dedicato proprio alle donne pirata e Grania era proprio uno di quei personaggi descritti in quelle pagine Grania ovvero Grace O'Malley come era chiamata dagli inglesi Grace dunque Grania era la figlia di un potente capo clan e a sua volta il clan di cui faceva parte Grania era uno dei più antichi e dei più importanti d'Irlanda lasciatemi premettere ancora una cosa che io non so perché adoro l'Irlanda ho questo amore verso questa terra inspiegabile perché non ci sono mai stata però la amo non lo so perché sapete quelle cose che non sapete spiegare che ve le sentite dentro però è così boh probabilmente avrò antenati irlandesi che ne so però mi piace tanto mi piace la cultura mi piacciono le leggende irlandesi mi piacciono i paesaggi quelle sconfinate distese di verde boschi foreste mamma mia secondo me il paradiso deve essere così spero sia così poi ognuno lo interpreta come meglio crede torniamo a noi dai basta scemenze Grania fin da piccola aveva sviluppato un amore per il mare incondizionato suo padre era un anche un comandante della flotta del suo clan ovviamente era il capo clan do e lei non perdeva non perdeva nessun momento per imbarcarsi di nascosto perché di nascosto perché le donne sulle navi si diceva che portassero sfortuna e non si faceva eccezione se veniva trovata una donna veniva buttata fuori bordo non si faceva eccezione neanche per la figlia del capo clan e quindi il padre cercava di camuffarla da vestita da ragazzetto oppure la la manteneva nascosta in cabina alla morte del padre che era molto amato da sua figlia veramente c'era tanto affezionata Grania si ritrova ad essere l'erede universale di ciò che il padre aveva quindi non solo le navi ma anche la carica di capo clan che lei prenderà molto seriamente e spenderà la sua vita per il benessere del suo popolo e questa è già una cosa che mi ha veramente colpito che me l'ha fatto proprio amare questo personaggio ha fatto tante altre cose che alcune ve ne accenno altre no perché se no che ci sto a fare qui a a svelarvi tutti i romanzi non va bene la cosa più sorprendente era che il il clan di del quale Grania faceva parte prima e comandava dopo dopo la morte del padre era un clan di anche grandi commercianti perché le le navi le navi dei suoi suoi tra virgolette pescatori e commercianti facevano la spola fra l'irlanda e la spagna quindi il clan di Grania era anche un clan molto ricco perché traeva dal commercio un grande sostentamento tutto questo ebbe fine quando quando purtroppo cominciò l'invasione inglese a quel periodo in quel periodo Grania era diventata ancora più importante perché aveva sposato l'erede di un altro clan di un altro capo clan e udite udite lei si ritrovò ad essere comandante di tre navi e una miriade di uomini come tipo 300 uomini non ricordo bene il nome il numero preciso il che mi fece molto sorridere mi fa sorridere tuttora perché purtroppo le donne all'epoca non potevano neanche respirare ma dovevano solo accontentarsi di essere gli angeli del focolare come si dice in questi casi e lei se ne fregava di questo se ne fregava assolutamente perché era una donna ma veramente una donna con il cuore di un uomo però non è giusto dire una donna con il cuore di un uomo una donna forgiata con cuore di donna però forgiata dalle avversità e si divertiva anche a far disperare i i governatori inglesi che venivano nominati per cercare di controllare il popolo e il territorio irlandese li faceva proprio disperare fino a che purtroppo la regina elisabetta non decise di andarci su pesante giù pesante più che altro e purtroppo questo personaggio Grania si troverà a dover decidere è più importante il mio orgoglio l'orgoglio della nazione l'orgoglio nei confronti di una cultura millenaria e splendida di tradizioni che non moriranno mai oppure è più importante la salute e il benessere del mio popolo perché si troverà questo bivio perché purtroppo più la resistenza irlandese si faceva dura e più la mano inglese si faceva pesante si era arrivati ad un punto dove tutti i porti irlandesi erano controllati dagli inglesi l'embargo delle merci si era fatto pesantissimo e il popolo irlandese stava morendo di fame e anche di freddo perché non potevano cucirsi i vestiti perché non avevano lana li avevano ucciso tutto il bestiame praticamente gli inglesi stavano mettendo in atto questa tattica facciamoli morire di fame facciamoli arrivare fino al limite perché tanto prima o poi si troveranno davanti o la morte o la conversione perché anche guerra di religione fu questa non ce lo dimentichiamo e gli inglesi pensavano tanto prima o poi da noi ci tornano da noi a noi ci accettano perché non possono continuare a patire la fame alla fine Grania fa una scelta mette da parte tutto il suo orgoglio e tutto il suo essere per il benessere del suo popolo e decide lei stessa di imbarcarsi ed andare a Londra e di incontrare la regina Elisabetta due grandi donne a confronto due grandi personaggi testardi in ugual modo a confronto orgogliosi in ugual modo a confronto questa è storia ve lo ripeto ve l'ho già detto anche l'altra volta questa è storia c'è stato veramente questo incontro lei sono tutte due esistiti Elisabetta prima si sa ma anche Grania è esistita ci sono gli stralci i resoconti di questo incontro c'è stato veramente l'incontro si svolge alla fine del libro ed è bellissimo bellissimo perché la regina Elisabetta ovviamente guardava dall'alto in basso questa donna e Grania nonostante fosse in piena difficoltà e fosse andata lì per per chiedere alla regina Elisabetta di smettere di maltrattare il suo popolo non abbassò mai lo sguardo gli tenne testa tutte le domande che la regina Elisabetta faceva anche quelle in cui cercava di mettere in difficoltà questa donna lei reagì proprio come se fosse una regina anche lei perché lei si considerava e lo disse alla regina Elisabetta gli disse il popolo inglese ti vede come una madre e quindi si aspetta che tu faccia delle cose ben precise la stessa cosa è per il mio popolo il mio popolo mi vede come una madre e io devo comportarmi come una madre farebbe con i suoi figli io devo salvaguardarli devo proteggerli e devo amarli quindi veniamo un po' di farla finita sostanzialmente con questa guerra inutile e alla fine la regina Elisabetta rimase molto colpita da questa donna calcolate che Grania non appena mise piede in Inghilterra poteva essere tranquillamente arrestata invece la regina Elisabetta gli concesse il salvacondotto e la gli restituì tutte le navi e la fece tornare in Irlanda a comandare il suo clan diciamo che ciascuna di queste due donne ha lasciato nell'altra un'impronta indelebile due donne che fronteggiavano un mondo maschilista che alla fine si sono si sono rispecchiate l'una nell'altra e la regina Elisabetta non non se la sentiva di maltrattarla non se la sentiva di arrestarla e farla impiccare perché l'ammirava troppo si rivedeva in lei cioè una donna in un mondo di uomini dove gli uomini pensavano che le donne non potessero fare altro che la calzetta e invece loro avevano dei compiti molto importanti e gravosi la regina Elisabetta il compito gravoso di comandare un impero un impero in grande ascesa grania quella di comandare navi ed un popolo fiero e orgoglioso questo è molto questo dà spunto per pensare dà veramente mi ha dato molto spunto per pensare questo romanzo mi ha fatto anche piangere la fine è molto bella io più di consigliarvelo non posso dirvi altro veramente mi scuso con il ritardo nei confronti di Chiara perché mi aveva chiesto tanto tempo fa di fargli la review spero ne sia soddisfatta spero che anche voi siate incuriositi non credo ci sia l'edizione economica mi dispiace però provate a chiedere non si sa mai vi saluto e vi auguro una buona notte ciao ciao Grazie a tutti.